una volta marina mi disse che ricordiamo solo quello che non è mai accaduto sarebbe trascorsa un'infinità di tempo prima che potessi comprendere quelle parole ma è meglio che cominci dall'inizio che in questo caso è la fine nel maggio del 1980 sparì dal mondo per una settimana per sette giorni e sette notti nessuno seppe dov'ero finito amici colleghi insegnanti e persino la polizia si lanciarono alla ricerca di quel fuggiasco che alcuni credevano già morto o smarrito nelle strade malfamate della città in preda a un attacco di amnesia una settimana più tardi un poliziotto in borghese credette di riconoscere quel ragazzo la descrizione coincideva il sospetto vagava per la stazione francia come un'anima in pena in una cattedrale fatta di nebbia e di ferro la gente mi si avvicinò con aria da romanzo poliziesco mi chiese se mi chiamavo oscar dry e se ero io il ragazzo scomparso senza lasciare tracce dal collegio in cui studiava annui senza dire una parola ricordo solo il riflesso della volta della stazione sulle lenti dei suoi occhiali ci sedemmo su una panchina lungo i binari il poliziotto si accese con calma una sigaretta e la lasciò bruciare senza portarsela alle labbra mi disse che c'era un mucchio di gente che mi stava aspettando per farmi un sacco di domande per le quali mi conveniva avere buone risposte annui di nuovo mi fissò negli occhi studiandomi a volte dire la verità non è una buona idea oscar mi allungò qualche moneta e mi invitò a chiamare il mio tutore in collegio lo feci il poliziotto aspettò che finissi la telefonata poi mi diede i soldi per un taxi e mi augurò buona fortuna gli domandai come faceva a sapere che non sarei sparito ancora mi guardò a lungo scompare solo la gente che ha qualche posto dove andare rispose secco mi accompagnò fuori e mi salutò senza neppure chiedermi dove ero stato lo vidi allontanarsi lungo il paseo colon il fumo della sigaretta intonsa lo seguiva come un cane fedele quel giorno il fantasma di gaudì aveva scolpito nel cielo di barcellona delle nubi impossibili su uno sfondo azzurro che accecava lo sguardo presi un taxi fino al collegio dove immaginavo mi attendesse un plotone di esecuzione per quasi un mese gli insegnanti psicologi della scuola mi martellarono di domande per farmi rivelare il mio segreto menti a tutti raccontando a ciascuno quello che voleva sentire o che poteva accettare con il tempo tutti si sforzarono di fingere di aver dimenticato quell'episodio io seguì il loro esempio non ho mai rivelato a nessuno quello che era successo davvero non sapevo ancora che primo poi l'oceano del tempo ci restituisce i ricordi che vi seppegliamo 15 anni più tardi mi è tornato alla mente quel giorno ho visto quel ragazzo girovagare nella bruma della stazione francia e il nome di marina si è infiammato di nuovo come una ferita recente tutti custodiamo un segreto chiuso a chiave nella soffitta dell'anima questo è il mio grazie a tutti